La Carpegna Prosciutto, Stewart si prende, l'avessi tiro da tre punti, lo manda a Versaglio, subisce fallo. 5, qua si prende il jumper da tre punti in faccia a Dejan Kravic, ma sempre questa andatura un po' ha rimesso praticamente l'intero quintetto repica, la palla dentro sul taglio di Kravic, l'anticipo di Mishinò che poi gestisce la transizione, Williams con la finta, gran palla per Stewart, Williams non sa solo giocare in aria ma sa. Chiuso il parziale di Napoli, l'attacca al canestro Stewart, trova il canestro e anche il fallo della difesa. Lì c'è, non vuole far scappare gli avversari, qua tiene benissimo a livello fisico.